Ciao amici! Il grasso sulla pancia per molti è il più ostinato da eliminare e sapete perché? Perché è una maledizione! Il corpo dimagrisce nell'ordine inverso di come ingrassa e siccome la pancia è il primo posto dove si accumula adipe, è anche l'ultimo da cui il corpo brucia i grassi. Vedi che è una maledizione! In ogni caso ho qui una soluzione. Ecco 10 cibi per avere la pancia piatta e tonica. Subito sgonfia, senza aria e col tempo anche magra. Se vi piace l'idea mettete subito un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. Amici se vi interessa questo argomento ho preparato apposta per voi una risorsa gratuita da scaricare sul mio sito. Trovate il link in descrizione qui sotto o nella scheda cliccabile dalla piccola i qui in alto a destra. Il primo alimento è la mandorla. Tutti grassi buoni, monoinsaturi, riducono l'appetito e aumentano la sazietà. Poi ananas. A zero grassi, pochissime calorie, carboidrati, vitamina C, enzimi digestivi, un perfetto dessert light. Il nostro classico carciofo ha poteri detox e diuretici, elimina quindi liquidi e tossine, causa di peso e gonfiore. I saporiti e preziosi asparagi contengono inulina, una fibra alimentare saziante e abbassano la glicemia. Il ricco avocado è ipocalorico ma super nutriente grazie a vitamine e acidi grassi insaturi che aiutano a dimagrire. Il profumato basilico. Il basilico riduce l'ormone dello stress, il coltisolo, noto per fare ingrassare. Il top nelle diete, limone. È dimostrato, bere acqua tiepida e limone al mattino stimola il metabolismo. Il superidratante cetriolo, potente diuretico, antiossidante, ha poche calorie ma è molto nutriente. Gli spinaci. La clorofilla degli spinaci riduce la fame nervosa del 95% e fa dimagrire del 43% più in fretta. E dieci, la barbabietola. Cruda, negli estratti, tiene bassa la glicemia e la pressione del sangue. Mangiando questi 10 cibi ogni giorno, a rotazione, è possibile sostenere il metabolismo e stimolare il potere bruciagrassi del corpo. Per dimagrire i punti difficili, il segreto è la costanza nel mantenere abitudini alimentari sane e dimagranti come queste. Iscriviti al canale, metti il tuo mi piace, condividi e grazie per aver guardato questo video. Mangia bene e perdi peso naturalmente. Grazie a tutti.